Pip fish Bene, Ed. Hai avuto questa spada per 10 minuti e hai già distrutto la porta! Ottimo lavoro! No, tutta quanta! Dovremo andare nel negozio di magia più spesso! Ho preso uno specchio! E uno specchio magico? Chissine! Sono belliiiiiiiiiiiiiiiiii! Bellissima! Batilda smetterà di dire le parole allungandole, ti prego, sei insopportabile Allora cosa c'è in quella scatola? Oh, una scatola gratis Sì, ma devo avvertirti, questa scatola contiene un'orribile maledizione Ma è gratis, giusto? Beh, sì, ma... Quei ragazzi, una scatola è gratis! Sì! Muoriranno Non lo so, forse sono ciambelle? Erano ciambelle? No, decisamente Rannicchiatevi nella paura, come avete aperto la scatola maledetta e avete scambinato il terrorismo? Posso chiamarti Daisy? No! Che finiva una scatola di cartone? Citi! Hai delle ciambelle? Ok, ora basta! No, il vaso! Giù! In realtà... Attenzione! Perché non gli lanciamo la spada a un cicano? Prendi questo! Matilda, fai attenzione! Sono contento che ci siano solo ciambelle e nessun demone fantasma Sì, sono contento che quella cosa stranamente specifica non sta accadendo a noi Grazie! Sì, ciambelle! Sì, ciambelle!